I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like you. Con la Presidente della Provincia Silvia Chiasai Martini cominciamo questo nostro incontro Presidente con una considerazione che riporta proprio la provincia, l'ambito provinciale alla luce dell'interesse collettivo perché proprio in termini di provincia si sta parlando per l'eventuale decisione di attuare o meno la zona rossa. Tra l'altro come sindaco a Montevarchi ha già preso un provvedimento, mi sembra che per ora sia l'unico sindaco nella provincia, della chiusura dei parchi. Qual è la sua valutazione di questo momento che stiamo vivendo alla luce anche degli incontri che avete avuto anche con il Presidente Gianni? Sì, purtroppo la situazione è un peggioramento, un peggioramento molto repentino perché abbiamo fatto il primo tavolo regionale con il Presidente, io ero rappresentanza delle province italiane venerdì alle 17 e la situazione era abbastanza sotto controllo nella nostra provincia. Nel giro di pochi giorni, già martedì invece, i numeri sono significativamente aumentati anche nel Val d'Arno che era una di quelle vallate più tranquille, anche se comunque rimane una vallata con un punteggio più basso rispetto al numero dei contagi in relazione alle altre vallate ma un qualcosa di diverso si è visto improvvisamente. Quindi probabilmente queste varianti che sono particolarmente capaci di diffondere in maniera repentina il virus si stanno diffondendo a macchia d'olio. Io come sindaco di Montemarchi ho pensato di agire subito sulla chiusura dei parchi e delle piazze perché ritengo indispensabile cercare di contenere fin da subito, fin dai primi segnali, la diffusione del virus. Sono convinta che non sia il caso assolutamente di chiudere le scuole perché non abbiamo focolai nelle scuole, nelle scuole i ragazzi sono nella massima garanzia perché c'è il controllo, c'è il distanziamento, usano le mascherine ed è tra l'altro un servizio indispensabile sia per i bambini stessi, mi riferisco ai bambini elementari ma anche ai ragazzi più grandi da un punto di vista non solo formativo ma anche psicologico ed è un servizio indispensabile per le famiglie. Quindi a tutela di un'eventuale chiusura delle scuole o delle attività commerciali ho ritenuto che la scelta migliore da fare per cercare di prevenire la diffusione fosse quella di chiudere i parchi e i luoghi pubblici perché lì purtroppo anche con il buon tempo che sta arrivando è molto difficile controllare le persone e non tutti hanno senso di responsabilità quindi è stata un'azione che spero aiuti in parte a contenere. Vediamo, la situazione è complicata. Lei ha fatto un ragionamento sulle scuole che mi riporta quello che proprio ai microfoni di territoria due giorni fa ha detto il provveditore Curtano quando ha detto che i ragazzi che vanno a scuola non sono figli dei codici Ateco sono i nostri figli e quindi bisogna tutelare anche questo aspetto della scuola. Allora innanzitutto bisogna pensare che se le aziende, i negozi sono aperti se i genitori lavorano i figli non possono stare a casa non possono stare a casa perché per quanto riguarda i bambini piccoli vorrebbe dire affidarli ai nonni che sappiamo sono la fascia della popolazione più a rischio quindi non solo non tuteliamo i bambini perché a quel punto il distanziamento, la mascherina non viene più rispettata come in aula oltre a perdere naturalmente tutta la parte legata alla didattica che è fondamentale per la crescita dei nostri figli ma crea sicuramente un possibile contagio ulteriore per le fasce più deboli. Inoltre da sicuro che il disagio psicologico che i nostri figli non solo i bambini ma mi riferisco in particolare agli adolescenti che stanno vivendo dopo un anno di chiusura delle scuole perché le scuole superiori sono state quelle più penalizzate incomincia ad essere veramente significativo. Inoltre se i ragazzi adolescenti stanno a casa a fare la didattica il pomeriggio escono e si risorna al problema principale il buonsenso da parte di tutti, non solo degli adolescenti quando si è fuori all'aperto. È il luogo dove siamo meno responsabili quindi assolutamente la chiusura delle scuole se non ci sono focolai che quindi date alla mano, secondo me è una scelta che non solo non incide positivamente sul contenimento del virus ma che crea delle conseguenze sociali, familiari e psicologiche che assolutamente dobbiamo evitare. A proposito di scuole, perché adesso mettiamo sul tavolo della nostra conversazione anche una buona notizia perché proprio lei ha annunciato che finalmente dopo veramente tantissimi anni si potrà tornare a investire sull'edilizia scolastica con cifre importanti ha fatto anche una previsione del fatto che ogni provincia potrà contare su un investimento diciamo di grande portata cioè su un istituto nuovo e tra l'altro realizzato ovviamente con i crismi e i canoni che oggi sono richiesti. Sì, abbiamo come provincia d'Italia sono responsabili dell'edilizia scolastica quindi in questi ultimi anni e mezzo abbiamo fatto un lavoro importante ritengo stretto rapporto con il ministero con il ministero competente che ha compreso l'emergenza legata soprattutto alle scuole superiori perché noi abbiamo il 70% in Italia delle scuole superiori che sono state costruite negli anni 70 quindi la maggior parte di queste sono in cattive condizioni hanno problemi strutturali, di sicurezza sono luoghi non più accoglienti, sicuri e tanto meno moderni per una formazione futura dei nostri giovani negli ultimi decenni purtroppo i fondi non sono stati stanziati in maniera significativa addirittura a causa della riforma del Rio le province negli ultimi sei anni hanno avuto 550 mila euro all'anno per tutte e 66 per quanto riguarda la provincia d'Arezzo gli edifici di proprietà questi erano i soldi a disposizione per la manutenzione straordinaria quindi niente abbiamo fatto capire che era importante dare un cambio da parte del governo e un cambio storico proprio c'è stato accolto, è stato compreso e sono iniziate veramente ad arrivare cifre importanti prima per quanto riguarda gli interventi dal punto di vista statico e sismico adesso finalmente arriva anche sul nuovo quindi noi oltre ai progetti di messa in sicurezza di moltissimi istituti che erano fermi alcuni addirittura chiusi da anni che abbiamo già annunciato nei mesi scorsi ci sarà un ampliamento del liceo Varchi a Montevarchi dove potremmo a quel punto chiudere una vecchissima sede di una scuola superiore in cattivo stato e spostare quindi finalmente in un luogo sicuro questi studenti ma adesso stiamo progettando una nuova scuola probabilmente su Arezzo proprio perché abbiamo la possibilità di ripensare delle scuole moderne fatte di alta tecnologia ambienti naturalmente compatibili con un luogo accogliente per i nostri figli facendo una riorganizzazione razionale scelte mirate perché è importante valutare sia i luoghi in cui sia eventuali spostamenti sia se l'edificio è più conveniente ristrutturare che invece buttare giù e fare del nuovo quindi avremo l'opportunità come provincia veramente di fare la storia nuovamente dopo tanti decenni dell'edilizia scolastica In questi giorni mi siete dovuti impegnare anche sul tema della viabilità perché c'è stata una emergenza in attesa dell'invasione delle cavallette diciamo comunque si è verificata una frana importante tra l'altro sulla strada tra Badia Prataglia e Camaldoli quindi è stato necessario realizzare un intervento di emergenza Assolutamente, questo è stato un evento particolarmente problematico perché c'è stata una frana molto importante i nostri uffici sono intervenuti immediatamente mettendo in sicurezza la strada però purtroppo la strada è chiusa perché il sistema franoso non si è ancora fermato saranno necessari fare degli interventi anche con gli esplosivi per far cadere diciamo in maniera semplicistica tutto quello che rimane della scarpata che è a rischio altrimenti caduta quindi purtroppo la strada deve ancora rimanere chiusa questo sta creando disagi non soltanto naturalmente a tutti coloro che praticavano quella strada ma anche a delle attività che sono lì purtroppo in questo momento e che quindi sono condizionate dalla chiusura voglio rassicurare che la provincia sia attivata da subito sta dando gli incarichi d'urgenza per quanto riguarda la progettazione perché prima di intervenire su una frana è indispensabile con una progettazione capire che tipo di intervento fare sarà un intervento molto complesso come per tutte le frane e anche importante da un punto di vista economico perché si pensa ad un intervento di oltre 300 mila euro la provincia assicura tempi celeri e i soldi già stanziati da bilancio però purtroppo voglio far comprendere ai cittadini soprattutto a quelle attività purtroppo che sono vittime anche di questa innesima complicazione che i tempi per la messa in sicurezza e la risoluzione di un problema franoso sono veramente complicati quindi vi chiedo di avere pazienza e fiducia perché appunto il mio ambito della viabilità sta lavorando in maniera celere per cercare di riportare in sicurezza quell'area Presidente, le faccio un'ultima domanda in questi giorni è stato celebrato l'8 marzo anche se con modalità ovviamente legate al periodo che stiamo vivendo lei è una donna impegnata nell'amministrazione in prima linea e proprio in questi giorni una nostra conterranea saldirà delle posizioni politiche comunque ovviamente che ha avuto incarichi molto importanti attualmente parlamentari Maria Elena Boschi ha lamentato un vero e proprio stalkeraggio che una donna che si impegna in politica deve subire le chiedo una sua valutazione su questo purtroppo devo confermare quello che Maria Elena Boschi dice nel senso che non mi era mai capitato come donna di ricevere così tanti attacchi meschini legati appunto al mio essere donna da quando sono in politica e questo purtroppo con molto dispiacere perché ripeto non avrei cinque anni fa non avevo contezza di quanto veramente fosse ancora troppo diffusa una modalità di relazionarsi alle donne soprattutto a partire dal linguaggio con un linguaggio misogeno, maschilista che con molta semplicità, spontaneità continua ad essere utilizzato purtroppo da tutta una serie di soggetti che invece dovrebbero essere ad esempio mi riferisco agli eventi ultimi legati a un professore universitario ma anche al mondo della politica dove appunto l'opposizione a seconda delle parti quella non è una distinzione che ci mancherebbe molto spesso attacca un amministratore donna sul suo essere donna mai su come amministra e devo dire che sicuramente per le donne che sono ad esempio in politica è particolarmente difficile perché la sensazione che io ho è che un uomo può accettare di perdere un posto di comando se vince un altro uomo ma ha molta difficoltà da un punto di vista culturale ancora ad accettare di perdere se vince una donna e quindi c'è un cammino ancora molto lungo da fare mi auguro che piano piano non essendo più rare le donne in politica si possa andare avanti su un processo di miglioramento culturale soprattutto per coloro che cercano di rendersi utili per la cosa pubblica se siamo noi a non dare un buon esempio insomma non c'è diciamo la sensibilizzazione non è molto positiva però noi donne siamo determinate non ci facciamo sicuramente scalfire dalla pochezza umana di certe persone che probabilmente per problematiche loro si sfogano su di noi bene Presidente la ringrazio ovviamente per questa conversazione noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo grazie I have a wonderful electronic invention I want you to see it looks something like you a venerdì around a venerdì Grazie a tutti.